Questa è una forma parzialmente che si chiama paraboloide iperbolico, le due pareti fatte di stralli sono in realtà a doppia curvatura, una sezione è una parabola e una sezione è l'iperbole, perché? Perché questo è il mito dell'ingegneristica del secolo scorso, per portare pesi enormi con una quantità di materiale relativamente ridotta e per questo è l'emblema della resistenza, si dice così, resistenza per forma, mentre i grandi pilastri, le grandi travi con molto materiale sono il sistema della resistenza per massa. A me mi basta che non abbiamo calcolato con l'ingegnere perché non venga giù, quando tira il sinibbio, si chiama così qua da queste parti, il vento del nord, quello forte che sbarba gli alberi. Dovendo celebrare la poesia, perché in questo punto i cipressi piantati da ammati individuavano proprio la sede dell'installazione dedicata alla poesia, io ho pensato che ripescando lo dai miei studi di architettura, il simbolo della resistenza per forma è perfetto proprio per la poesia, la poesia usa poche parole per portare pesi enormi. L'opera che io ho realizzato a Celle si chiama Punto di fuoco, è costituita da 30 piante di cipressi, sono parte dal concetto della fisica contemporanea, quindi quella dopo Einstein, che un fascio di rette si incontra all'infinito in un punto. In questo caso il punto, che è il fuoco o focus, rappresenta il punto di convergenza di queste quattro linee, quindi a Celle rappresento quattro linee che nella mia idea iniziale erano le quattro arti, quindi l'architettura, la letteratura, l'arte visiva e la musica, che accompagnano chi entra dentro l'opera verso un punto di fuoco. La mia idea era quella di rappresentare a Celle, attraverso questi 30 cipressi, che idealmente rappresentano 30 figure di artisti, rappresenta praticamente la strada verso il fuoco. Alla fine del punto di fuoco c'è, in questo caso, l'opera di Sandro Venonesi, che si chiama La serra dei poeti, quindi in pratica le due opere, i due lavori dialogano fra loro. Ai 30 cipressi, collegandoli con la sua opera, sono stati identificati con in 30 poeti. Questa opera che è nata oggi, è nata, è l'ottantesima opera di arte ambientale. L'arte ambientale è tale quando l'opera che realizza l'artista usa lo spazio come parte integrante del lavoro, vale a dire lo spazio deve partecipare in pieno ed è inamovibile. Grazie. 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 Grazie.